Sì, non è possibile che... ...un, due secondi. Posso rilasciare qui? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, è pronto. Sì, sì, vado. Grande! Afficato! Sì, vado. Anche le signal. Oh, il canto! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, vado! Ok, set, go! Sì! Ho la roscata! Ho la ... ... ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Go! Yeah! 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 Figo no? Figo, figo cazzo Un'altra, un'altra Ne voglio un'altra cazzo